Consigliera Salsi ha una terza domanda di attualità. Sistema SDI inaccettabile alla Polizia Municipale a circa un minuto di tempo e il Sindaco le fornirà risposta scritta. Grazie Presidente. Già in altra occasione mi ero occupata dell'interconnessione tra le varie banche dati e erano emersi in questo caso da parte della Procura delle difficoltà ad accedere alle banche dati comunali nonostante ci siano alcuni percorsi avviati. Adesso si verifica l'esatto contrario, ovvero il Comune che non ha l'accessibilità alle banche dati della Procura. E questo che cosa ha determinato? Un rallentamento nelle indagini, ad esempio nel trovare la persona che ha investito l'ottantenne la settimana scorsa. Allora mi chiedo a questo punto quale sia l'opinione dell'amministrazione in merito a quanto accaduto, se non ritengo opportuno sollecitare attraverso gli organi competenti affinché sia possibile una reale interconnessione tra le varie banche dati. Questo per facilitare le indagini in entrambi i sensi perché ricordiamoci che la Polizia Municipale comunque svolge compiti analoghi agli altri organi di polizia e sembra, mi vende a dire, assurdo che nel tempo del tutto online, tutto in rete, non ci sia la possibilità di accedere appunto, non si sia pensata ad una modalità di libero accesso alle varie banche date da parte degli organi che hanno bisogno di investigare e di accedere a queste informazioni.